Ed è arrivata la mia pita chiosa e quelle delle dimensioni sono veramente generose Oggi sono a provare Pit House, nuovo locale che è aperto da poco a Catania Fanno la pita in tantissime versioni, ovviamente non manca quella al pistacchio Mamma mia, è stra carica di condimento All'interno abbiamo kebab artigianale, morte della stracciatella, pesto di pistacchio, farina di pistacchio, patate dolci e cheddar Nonostante sia sottile, è morbida, quindi non è un impasto croccante Il kebab artigianale ha un gusto pazzesco, buonissimo Il pesto di pistacchio che utilizzano è molto buono, però non è dominante in modo esagerato da coprire tutto Si sentono tutti gli ingredienti, complessivamente risultante molto cremosa e gigante